Ok, la potrei fare questa cosa, sì No, Gertron No Vabbè, Terraria Quindi cambia solo Nildog Ok, questo ci abbiamo giocato col boss Super Meat Boy Sotto ci sono pure Friving Nights at Freddy's Questo non me lo ricordo Però ho più o meno presente Vabbè Enter the Gungeon The Stanley Paravol Short Knight Rock Legacy Sono Anki Ehm Diari attorni Ehm Oppremi Ehm Questo non lo conosco Questo è Come cazzo si chiamava Aspetta, ho capito qual è Vabbè, è quello stile Sonic Ci ritorno dopo Questo non lo conosco Questo non l'ho mai visto Questo non lo conosco Questo non lo conosco Questo non lo conosco Questo è To the Moon Questo non credo di conoscerlo Questo non credo di conoscerlo Papers, please Questo è Dark Souls Ovviamente no Questo è The End of Grimrock Ehm Cave Story Ehm Pony Island Ehm Questo lo conosco È Gone Home Gone Home Ok Questo è Lisa Ma qui devo ancora giocare Questo è Retro City Rampage Ehm Raid Ok Questo non credo di conoscerlo Questo non lo conosco Questo cazzo è Freedom Planet Freedom Planet Perfetto Freedom Planet Questo proprio non lo conosco E neanche questo E neanche questo E neanche Oh Questo forse sì Aspetta Dustin Elysian Tail Ok E questo proprio no Non era male Ma non ci ho giocato alla fine Avevo giocato solo alla demo Però Non l'ho Non l'ho Mai giocato intero Ho fatto l'83% Contro il 50% Degli altri Questo era Omnibus No non lo conosco Omnibus Poi Mi sono perso No Questo 0 Pensavo di conoscerlo Ma quel nome non mi dice niente Spooky Jumpscare Mansion L'ho già L'avevo già sentito nominare Ma non me lo sarei mai ricordato L'avevo visto un video Su questo gioco Forse Katawa Shojo Zero No Ho mai sentito Tower of Heaven Neppure Beh tutto sommato Non me la sono cavata male Ah Oh Simpatico Ok Dai ci provo Ci provo Allora abbiamo Metroid Prime Sì Halo Questo mi ricorda qualcosa Vabbè Abbiamo Zelda Abbiamo Pokémon Abbiamo Questo mi ricorda qualcosa Sarà Resident Evil Fatti Questo non riesco neanche Inquadrarlo Questo non credo Questo è Contra E questo è DD Kong Racing Credo Fatti Questo non lo conosco Questo è Super Mario Rosso Questo non credo di conoscerlo Poi abbiamo le porte del cesso Di GoldenEye 007 Questo è The Sims Eh Questo è San Andreas Sì Questo è Metal Gear Ehm Questo non lo riesco manco a vedere Non si può ingrandire No Questo è Final Fantasy VI Ehm Questo non lo riesco proprio a individuare Questo però mi è familiare Non so se è Kingdom Hearts Ma non C'è Ho un ricordo Sì È Kingdom Hearts Questo non riesco Bioshock Ok E allora questo Anche questo qua Potrei averlo visto Da qualche parte Scrolli down Perché cosa vi manca Scusami È tutto qua Quella roba strana Dei Simpsons Questo Oddio potrebbe essere Ma non penso che siano i Simpsons Potrebbe essere Paperboy Ma non credo Minchia Paperboy 2 Ok Chi cazzo lo sapeva Che esistesse Paperboy 2 Questo però Questo qui Ha un che di familiare Un pochino E questo non riesco a vederlo Cioè è troppo piccolo Non riesco a capire Questo mi ricorda tipo Dungeon Keeper Ma non è Dungeon Keeper Sembra uno shooter Di quelli da combinato Ma western Allora potrebbe essere Wild Guns No Non era Wild Guns Com'era che si chiamava Quello a cui avevo giocato io Cazzo Non me lo ricordo Però forse Capite qual è In basso a destra Non può non indovinarla Ti giuro Cioè non la riesco Neanche a interpretare Stavorta Mi confonde Questa immagine E' una porta di carta Ah ok Eh ok The Thousand Year Door Non mi è rimasto Tanto impresso Come gioco Eppure questo Mi ricorda qualcosa Ma è troppo vago Vabbè dai Mi arrendo Dai ci sta Devil May Cry 4 Ok figurati Ci ho giocato World of Warcraft Non ci sarei mai arrivato Erano le tartarughe ninja Ok Infatti mi era mezzo familiare Ma non ci ho mai giocato Vabbè dai Ho fatto più della media Dal suono della morte Questa pure Sembra interessante E poi c'è la causa Di morte anche Vabbè proviamo Vabbè questo è Super Mario Bros Morto per un Goomba Vabbè non importa Ben gioca a Zui Airbound Resident Evil Resident Evil Riconosco il suono degli zombie No questo non lo conosco Vabbè Dai Scusami Sonic No Donkey Kong No L'ho indovinato molto più avanti Ok va bene Anche questo non mi è familiare Nemmeno questo Sì Yoshi's Story I lemmings I lemmings Punch out Doom Uno Due No L'uno Ok No questo non credo di conoscerlo Super Smash Bros Super Metroid Super Metroid Super Metroid Questo non credo di conoscerlo Allora Ehm Questo sembra Final Fantasy Ok Ok Non credo di conoscerlo Megaman Ocarina Time Zero Questo è Metal Gear Questo è Metal Gear Metroid No Kid Icarus Questa no non la conosco Prince of Perse Potrebbe essere Tomb Raider Quello di prima Infatti Ok sembrava Lara Croft Che moriva sulle trappole Questo è Mario 64 Nope Ecco dai Questo è Donkey Kong L'ho azzeccato prima Per sbaglio Questo è GoldenEye Kirby Kirby Cos'è questo Cos'è Devil May Cry No non è Devil May Cry Questo Cos'è Medieval No minchia Mi ricorda qualcosa Questo mi ricorda qualcosa proprio Questo è Pac-Man Cazzo però questo Game Over qua mi Madonna Quanto cazzo mi è familiare se solo riusciti a ricordare Che sta succedendo Che sta succedendo Che schifo la Nintendo Marmocchi fanboy Comunque non è vero Comunque non è vero La Nintendo fa Roba Direi tranquillamente adatta A tutte le età Però Fa in modo appunto Che sia adatta A tutte le età No comunque questo Game Over Game Over È troppo familiare Madonna Perché non riesco a ricordarmelo Io mi arrenderei Perché tanto C'è solo quella Mi sa dove c'è il dubbio Però non riesco proprio A ricordare Questi qui Chissà se c'è un Clock Tower Da qualche parte No eh Forse non c'è l'entil Neanche Mi sa che mi devo arrendere Però è stato carino Questo zero E non credo di conoscere Questo Può essere tipo Time Crisis No Time Splitter Era Time Splitters Era Time Splitters Che culo Che culo Buonanotte Dai Give up Vediamo Oh Comunque ho fatto molto meglio Della media Stavolta Dig Dug Non ci ho mai giocato Stassi iscritti Non ci ho mai giocato Pitfall Non ci ho mai giocato Left 4 Dead Non ho mai giocato All'1 Vediamo se adesso Che lo conosco Zero Katamari Daman Si Vediamo In effetti mi era familiare Ma no Non l'avrei mai capito Ah c'è pure il game over Di The Sims 3 Seriamente Vabbè il campo minato Non pensavo nemmeno Che avesse dei suoni Castlevania Symphony of the Night Invece Ecco qual era Che non avevo pensato Però dicevo Ma io non mi ricordo Castlevania Che parlasse Eh si Ci sono morto Con Castlevania Symphony of the Night Si si Left 4 Dead È grave Eppure Castlevania Non proprio Non è poi così grave Forse un po' Castlevania The Old Gone Trails Mi posso definire Soddisfatto Perché ho azzeccato Praticamente Tutti quelli Che Che conoscevo A parte Castlevania Dai 72% Non è male Ultimo Ringrandiamo un po' Così si vede meglio Per tutti Questo non mi dice niente Portal 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 Ah ok Adesso ho capito Come si legge Ah Ok Eh però qua non vi posso Inquadrare tutto Va bene Quindi abbiamo Portal 2 Che è il quarto Poi Quello forse Alan Wake Bene Cazzo questo è tosto Questo è veramente tosto Vedo uno Skyrim Potrei vedere un Bioshock No C'è Mirror's Edge Comunque è troppo complicato Per me Sto coso C'è Red Dead Redemption Red Space 2 Fallout Fallout 2 3 1 No Non è fallout Allora Cazzo no È troppo Questo è troppo Troppo tosto Direi per me Aive Aive Come si chiamava Aive 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 Infinite No Allora Questo cos'è Questo con le note musicali Non mi dice niente Cazzo Io le copertine Proprio Con i giochi Burnout Rage Ah Rage è questo Rage è questo Burnout Non ne ho idea Non c'è Burnout A meno che non sia Burnout Paradise Infatti è Burnout Paradise Che è questo Figurati Left 4 Dead È questo Sono troppo piccole Le immagini Mass Effect Borderlands Sì Mass Effect No Resident Evil 5 Ah giusto Questo Ah guarda Se me li dici Li riesco a trovare Questo qua Era tipo Quello Brink Brink Com'è che mi è rimasto in mente Brink Che faceva cagare Questo è Borderlands Ovviamente Questo forse è Fable No Non è Fable Questo è Red Red Faction No Però questo Sembra Mass Effect Infatti È Mass Effect 2 Ok Minchia La maggior parte Non mi dicono Assolutamente Niente Elenoir Elenoir Dov'è? L'ultimo Della terza riga Questo Minchia No Questo Zero Quello In alto a destra Lo conosco Ma non mi viene Questo l'ho già fatto AIDS Quel gioco Tipo Wasteland No Quel gioco Tipo Fallout Ma mediocre Qual è il gioco Tipo Fallout Ma mediocre The other world No In alto a sinistra Heavy Rain Questo è Heavy Rain Ok Fall out Burn out Flat out Ah blur Blur Eh no Figurati Blur è Questo Ok Ma io non riesco a cavarci niente Da Questo è vagamente Familiare Ma troppo Vago Troppo 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 Niente Questo è Veramente Tosto Per me C'è un Mudden Vabbè non importa Non c'è Need for speed Non c'è Tomb Raider Tomb Raider Io mi arrenderei Sinceramente Non mi sento Per niente In grado Cioè Questo è vagamente Familiare No Niente Tommaso il tracciatore Tom Tom Bray Tom Bray Allora Ho fatto quanto la media qua Attenzione Crysis 2 Zero Tron Evolution Zero Alan Wake Strano Mi pareva di averlo scritto Alan Wake Strano Dead Rising 2 Non l'avrei Zecato Poi Fable L'ho scritto Soluno Skyrim Metal Mirror Seggio L'ho Zecato Uncharted Zero Rage Mafia Kung Fu Panda Ma andate a cagare Tutti quanti Bioshock Dovevo scrivere Due Battlefield Falla Dovevo proprio scrivere New Vegas Eppure Homefront Figurati Killzone Questo Vagamente Poteva ricordarmelo Guitar Hero Zero Call of Duty Zero Alo Blur Gears of War Aspetta Questo è Halo 3 Ah Sì LittleBigPlanet Non l'avrei Azzeccato Era NBA 2K11 Ah questo è Smackdown Ok quindi non lo conoscevo Need for Speed C'era pure Happy Fit 2 Mandata a fanculo The Space Burnout GTA 4 Spider Manager Reality Death for Death Mass Effect Ah c'era pure Mad NFL NFL 2010 Mi ha andato a fare In culo Arkham City Figurati Minchia Non l'ho Zecchato Manco questo Star Wars The Force Unleashed Era questo Infatti mi ricordavo Questo è Tekken Brink E Dead Ma comunque no Non mi è piaciuto Questo